Benvenuti a questo nuovo corso di pittura iperrealista. Probabilmente molti di voi saranno titubanti nel cimentarsi su un genere così difficile, ma vi posso garantire che con i giusti consigli ed insegnamenti riuscirete a raggiungere un sorprendente risultato già da questo primo corso. Questo corso è talmente dettagliato da potervi rendere rapidamente abili nella pittura ad olio pur essendo la vostra prima volta. Questo è il soggetto che eseguiremo in questo corso. Eseguiremo un dipinto su una tela di centimetri 24x18 o poco più. Potete usare anche un altro tipo di supporto, cartone telato, tavola di legno eccetera. E questo sarà il risultato finale. Come potete notare il dipinto si discosta parecchio dall'immagine fotografica. Il soggetto dovrà essere semplicemente una fonte di ispirazione. Noi dobbiamo interpretare e personalizzare senza preoccuparci di dover rispettare le tonalità ed i particolari del soggetto reale. Voi per iniziare limitatevi a ripetere i miei gesti. Quando avrete acquisito una buona padronanza tecnico-pittorica vi verrà naturale. Durante le lezioni creerò assieme a voi la tavolozza con le tonalità che ci serviranno. Durante la mia esecuzione oltre alla descrizione parlata e scritta appariranno in video le tonalità di colore e il tipo di pennello consigliato. Il corso completo è suddiviso in tre video con quattro lezioni. All'inizio di ogni lezione oltre al tempo di esecuzione troverete la lista di materiali, colori e pennelli che ci serviranno. La presentazione è finita, non mi resta che augurarvi una buona pittura.